Ciao a tutti, vi ho preparato un articolo che riguarda le abitudini che possono ostacolare il nostro programma di perdita di peso. Sono abitudini o comportamenti che capita a volte di adottare per situazioni sociali o condizioni particolari della propria vita che distolgono noi da un processo di dimagamento. Io consiglio sempre di affrontare quelle paure lì per poter analizzare delle tecniche di risoluzione, per potersi riprendere nel percorso di dimagamento e acquisire ulteriori strumenti che possono servirci nel futuro qualora si ricadesse in condizioni di criticità. Con questa cosa ne approfitto, visto che è un po' che non riuscivo a saltarvi, per augurarvi un buon weekend.